Grazie! E l'abbiamo, come qualcuno di voi lo saprà già, perché l'abbiamo presentato più di una volta in zona, quindi lo saprete, no? L'abbiamo scritto a Gerusalemme, una città che ha accompagnato le prime note, le prime parole di questo disco che si chiama Beyond the Sea. È una città molto intensa, l'abbiamo vissuta anche noi così in questo mondo. È una città che il Cardinale Martini la definisce un luogo dove il cielo tocca la terra e davvero avevo l'impressione che fosse così, per davvero. Ainaki! Aynaki! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti